ok ragazzi torniamo a parlare di aceri piante lo costa anche di aceri da vivaio come questo differenza fra potatura di strutturazione e potatura invece di rientro cerchiamo di capire cosa bisogna fare in questo caso e invece cosa bisogna fare in questo caso perché mi arrivano delle domande tipo come devo impostare la pianta come la devo potare ragazzi qui a meno che questi rami quassù alti non vogliamo usare per farne ammargotto delle tale quella potatura semplicemente è così ok si sega netto e ciao ciao ok invece in questo caso ovviamente bisogna mettere a posto tutto sto bordello di rami che molto spesso escono male incrociano e quindi in piante così vigorose è anche buona cosa rientrare parecchio e ripartire con la vegetazione nuova quindi una potatura di rientro che sarebbe per ripartire proprio da dietro ok per creare una pianta più ordinata con rami più conici rami che poi vengono fuori come diciamo noi ok proprio una miglioria quei ragazzi qui non dobbiamo assolutamente mettere filo cercate di non fare cose assurde ok perché non ha senso la cosa buona di questa pianta è stata pagata 30 euro e il mio cugino vi faccio vedere questa primavera come si fa a far ricacciare i rami da qua e poi se riusciamo magari fa anche una defogliazione totale perché molto informa l'ho caricata al massimo questa è carica al massimo quindi magari andiamo a recuperare un anno perché piante molto giovani io consiglio anche di fare una defogliazione totale può essere utile questo perché andiamo sviluppare rami nuovi più vicini al tronco più bassi perché neanche lucifogli sono molto importanti rami bassi e poi la facciamo ricacciare di nuovo perché avendo pochi rami se andiamo a togliere tutte le foglie ve ne fa parecchi ok se invece abbiamo una pianta come questa che ha tante gemme tanta roba se andiamo a defogliare tutto poi dopo per la pianta può essere un problema far aprire tutte le gemme sopra che ha invece quando ne abbiamo poche è un attimo ricacciare lungo ok qui ragazzi giù le mani stai facendo potatura la terza gemma sui rami che non ci serviranno giù le mani se fate filatura se legate il tronco non va affatto ok adesso soprattutto per gli aceri per gli ormi è buona cosa andare nei vivai e andare a vedere ci sono delle piante che sono valide che costano magari anche poco cosa deve fare bisogna essere un po maliziosi si va nel vivaio e si scava con le dita ok quello che ho fatto io se vedete che c'è dalla base allora può essere un pezzo bomba alla fine con 30 euro ragazzi non ditemi che non avete 30 euro per una pianta perché mi viene da ridere se no se vedete che il tronco è bello ma non c'è il piede prendetelo lo stesso perché si può fare sempre una margotta dove c'è un rigonfiamento che viene sempre fuori un bel piede della madonna ciao a tutti ragazzi mi raccomando fate le cose step by step sempre poi ripartiamo a bomba in primavera vi faccio vedere come si fa a far sviluppare rami nuovi qua sono fondamentali i rami nuovi ok ciao a tutti